e c'è il gol e sta diventando davvero un tiro al bersaglio imbarazzante Darwin Nunez può metterla da lì e c'è il gol la giornata da incubo per il portiere avversario prova e c'è il gol e c'è la tripletta che partita occhio all'avanzata salta il difensore palla in rete Nunez palla in rete ha battuto il portiere Robertson non può sbagliare Salah non sbaglia Salah implacabile qui portiere battuto non sbagliare non sbagliare all'avanzata il portiere